Nella notte di San Nicola nei vicoli di Barivecchia si sono rinnovate le tradizioni. Bar e negozietti aperti hanno dato il benvenuto a Baresi e non per la colazione dopo la messa. Per le amanti del salato ecco servite sgagliozze e popizze. Lei non fa colazione col cioccolato caldo ma con la sgagliozza? Dopo la cioccolata calda. Quindi lei non lascia niente? Niente. È il primo anno che viene a San Nicola? Ogni anno vengo. Ma che cosa la spinge a venire qui? È un butto, è un butto. Per i tradizionalisti i bar hanno servito cioccolata calda e cornetto. Lei beve la cioccolata non le sgagliozze? No, no. Quindi lei è un amante del cioccolato caldo? Specialmente per il giorno di San Nicola è proprio la tradizione. Però c'è chi mangia anche le sgagliozze? A me non piacciono. Poi a pancia piena è iniziata la passeggiata tra i vicoli per l'immancabile visita ai presepi. Questo è un presepi in condominio. Io, mio figlio, è un signore che abita lì dentro là. Tutti gli anni lo fate visitare? Ogni anno, sì. È gratis? Chiunque può entrare? Ma la cosa bella è che piace la gente e la gente se lo aspetta questo presepi qua. Ma girando nel centro della città abbiamo scoperto anche le tradizioni dei commercianti, come quelle del barese doc Nicola Pintucci. Anche quest'anno alle 8 del mattino caffè, cioccolato e cornetto per tutti i clienti. Un rito per festeggiare il suo nomastico in compagnia dei clienti più affezionati, ma anche di coloro che vogliono condividere con lui la decennale tradizione. È una cosa a cui tengo molto perché aggrega sempre di più le persone, che è la cosa più bella di questo mondo. Da barese sicuramente non può mancare la devozione per San Nicola. Senza un problema di dubbio, sono andato alla messa delle 5 meno un quarto, che è un'altra tradizione a cui tengo molto da anni con i miei genitori, ed è un evento che dà proprio l'idea dell'amicizia, della compattezza, della fraternità. È una cosa molto bella.